Il malfunzionamento di una stufetta o un corto circuito potrebbero essere queste le cause dell'incendio divampato all'alba in una palazzina al centro di Nuoro in cui ha perso la vita Giampiero Cancedda, 74enne del posto. L'uomo sarebbe morto per asfisfia mentre con una bacinella d'acqua tentava di domare le fiamme. Sono stati gli agenti della squadra volante della questura intorno alle 6 a dare l'allarme appena si sono resi conto delle fiamme che stavano avvolgendo l'appartamento al secondo piano. Subito sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che con 20 uomini e un autobot hanno iniziato a spegnere le fiamme per poter entrare all'interno della casa dove in soggiorno hanno rinvenuto il corpo dell'anziano. L'ambiente probabilmente si era assaturato dei gas sprigionati dall'incendio. I vigili hanno lavorato per ore e l'intero palazzo è stato sgomberato per precauzione salvo poi permettere ai residenti spaventatissimi di rientrare nelle proprie abitazioni. Le prime ipotesi parlano appunto di un ruogo accidentale ma sarà un sopralluogo più preciso possibile solo dopo le difficili operazioni di bonifica dei vigili del fuoco a stabilire l'effettiva causa dell'incendio. Il magistrato di turno della procura di Nuoro dovrà decidere se disporre l'autopsia sul corpo di Giampiero Cancedda che al momento della tragedia era da solo. La moglie infatti si trovava fuori città.